Eccolo qui il furto, Tavernelli gran recupero e grande appoggio vai Riccardo Penserini, Penserini per Cazzaniga, Cazzaniga non si fila del tiro, palla sotto, grande canestro di Giovanni Penserini che si gira e realizza due punti in rovesciata di pregevole fattura E parte Legnano con Tavernelli, Tavernelli prende il blocco di Cazzaniga, scusate, Navarini, Navarini, Alberto che prende il blocco di Cazzaniga e va a realizzare due punti, bravo Alberto E fuori ancora per Braidotto dall'altro lato, stavolta è lunga, rimbalzo di Legnano Grande entrata di Penserini, grande entrata di Penserini che si fa tutto il campo, si beve la difesa di Orvi Nuovi e mette il quarantesimo punto di Legnano Tiro da tre, ancora corto di Legnano, palla recuperata da Alberto Navarini, bravissimo Alberto, via, palla lunga per Maiocco E contropievole da Manuel, Navarini, Maiocco, Penserini e altri due punti per Legnano Sale da giocare, 7-4 Legnano, 4-3 Orvi Nuovi